Ciao a tutti, ho pensato tante volte a questo video, al contenuto ma mai al modo, almeno finché qualche giorno fa un ragazzo speciale ma non per il motivo che pensate ha pubblicato un video, speciale perché in un minuto è stato in grado di riassumere la vita sociale mia, sua e quella di molte altre persone con l'unica colpa, tra virgolette, di essere semplicemente portatori di una disabilità unicamente fisica più o meno grave. Non starò a parlarvi della mia malattia perché l'ho già fatto in un video e ve lo metto nelle schede. Adesso lascio parlare Paolo, ci vediamo dopo. Il cambio di atteggiamento nei miei confronti è una delle cose più fastidiose della mia condizione. Quando due sconosciuti si presentano tra loro, mettono in gioco le proprie maschere sociali, ma nessuno si rivolge all'altro con il tono con cui parla ai bambini o ai cani. Nel mio caso invece succede. Non gliene faccio una colpa, è una specie di riflesso incondizionato che sia quando ci si rivolge ad una figura percepita istintivamente come più debole. Mi piacerebbe che ci fosse meno riverenza nei miei confronti, vorrei guadagnarmi il rispetto degli sconosciuti, non la loro compassione. L'educazione deve esserci prima di tutto, ma l'idea di non poter intrattenere una conversazione normale con qualcuno solo perché ha paura di ferirmi mi ferisce. Se in presenza di un disabile diventi un cuscito, significa che non hai capito che dietro ad un'infermità c'è una persona come te, anche se fisicamente un po' meno fortunata. Io ringrazio dal profondo Paolo per avermi dato il permesso di utilizzare il suo video che comunque probabilmente personalizzerò in modo che non possa essere preso senza permesso, cosa che io invece ho chiesto. Vi lascio il link al video originale al canale, qualora voleste dare un'occhiata. Faccio questo video perché sono stanco. Sono stanco di essere un moderno rapero un solo giusto senza treccia e senza torre incantata. Sono stanco di essere trattato con sufficienza in ogni ufficio pubblico. Sono stanco che si parli con i miei accompagnatori qualunque titolo essi abbiano e non con me. Mi avete beatamente rotto le scatole. Basta, non siamo bambini, non siamo i vostri santini da portare in processione. Non dateci preghiere, dateci gesti. Gesti che siano rapportati alla nostra età, non all'età che vorreste che noi avessimo, per non mettervi di fronte ai problemi. Se pensate di essere fuori da questo gruppo, condividete il video. Perché ho messo questo titolo? Perché di fatto, quando io ho un problema, o anche quando sono felice, o anche quando sarei di buon umore, avrei voglia di andare a prendere una pizza, un caffè, qualcosa di questo genere, non posso farlo. Perché le persone che non si riconoscono in questa cosa non sono qui. E spero che siate abbastanza maturi da non offendervi, e, o, da non dire, ma lo sai che potevi parlare con me. Lo so, ma, forse non mi piace parlare di problemi. Soprattutto, cercare le persone per parlare di problemi. Attualmente, ogni aspetto della mia vita è un problema. Io vi compreso la vita sociale, altrimenti non farei questo video. Quindi, se sentite di dover dire qualcosa, fatelo voi. Ci sono i commenti, ci sono i miei social. Qualcuno di voi ha anche il mio numero di telefono. Fatelo. Ma, soprattutto, quello che mi interessa maggiormente, e se voi non vi ritrovate in questo tipo di persone, condividete questo video. E diciamo, basta tutti insieme. Ciao.